Tutti i titoli giornali questa mattina sono su questo assalto finale alla striscia. Io sinceramente sono un po' preoccupato perché l'assalto finale è più di così che bisogna fare. Più di questo, ragazzi, finisce veramente male. Già la parola finale richiama delle cose che non sono bellissime del passato. E mi sembra anche che questo piano proposto dagli Stati Uniti, l'idea di far fuori Hamas, sradicarla e poi mettere al suo posto, ridare tutto il potere e dialogare con l'autorità nazionale palestinese, sia un po' velleitario perché non tiene conto della realtà. Cioè che l'ANP è quasi completamente priva di sostegno in quelle zone. Non è che puoi così a un certo punto improvvisare, mettere uno che è delegittimato. Tu cosa dici? Io condivido la tua preoccupazione, non per fare leva sull'emotività o sul sensazionalismo, però noi ci siamo incontrati proprio da queste frequenze, Francesco, qualche giorno fa e commentavamo rassegnati, per certi aspetti veramente scoraggiati, i 6.000 morti a Gaza. Adesso abbiamo 9.500 morti da quello che sta emergendo, di cui 3.900 sarebbero bambini e 2.400 sarebbero donne. Quindi io mi domando ancora una volta, reitero questa domanda, a costo di essere accusato di essere un fiancheggiatore di Hamas, un'accusa alla quale chiunque pone domande ormai si è abbastanza abituato. Si è capitato anche a me, tra l'altro, mentre mi mandavano mail per dirmi che io sostenevo Israele, venivo accusato di essere un fiancheggiatore di Hamas, contemporaneamente, cioè io sono, vabbè, comunque, il nostro strano dibattito pubblico diciamo. Guarda, se può consolarti, mi hanno dato del nazista perché ho dichiarato che non è il caso di andare in piazza con delle bandiere che inneggiano a Hamas o con delle bandiere che inneggiano all'ISIS o organizzazioni terroristiche. Per questo motivo io sarei un nazista filo-israeliano. Ma, guarda, questo non è solo colore e folclore. Questo denota lo stato di imbarbarimento totale che c'è nel nostro dibattito pubblico. Noi abbiamo veramente dei manipoli di automi che non riescono più a comprendere quanto la realtà possa essere complessa e composita e dunque esiste soltanto un sistema binario 0-1, vero-sbagliato, amico-nemico, e questo è l'unico schema di ragionamento che può essere adattato. Ad ogni modo, per tornare a quella... Questo è preoccupante perché un sistema di questo tipo difficilmente ci condurrà alla realizzazione di un piano... Guarda, ti interrompo un attimo perché su questa cosa, scritto l'altro giorno, mi ha fatto sorridere un commento con Cita De Gregorio, proprio su questa cosa del pensiero binario, dicendo ma ormai ti chiamano nei talk e ti chiedono da che parte stai. Se tu stai con Israele o con la Palestina. Ora, questa cosa è anche abbastanza vera perché è successo, succede anche a me. Tra l'altro mi è capitata questa cosa strana una sera che mi hanno messo da una parte e poi si sono accorti che invece io la pensavo diversamente, quindi erano in difficoltà, non gli tornavano i conti con gli ospiti. Però che lo faccia Repubblica, questa roba del pensiero binario, mi sembra veramente un po' comico, mi permetto. A me fa ridere quello che sta succedendo. Fa ridere perché vogliamo riderne ma ci sarebbe da piangere. Io citavo una trasmissione la prossima settimana, non la voglio ricitare perché se no sembra che ce l'ho conformigli e quindi non lo nomino. Però quello che a me lascia di stucco è che dinanzi a questa crisi internazionale, giustamente, sottolineo giustamente, si denuncia il pensiero binario, ma non ci si scandalizzava quando si chiedeva ad un direttore d'orchestra semplicemente in quanto russo per poter continuare a lavorare di fare una dichiarazione politica contro Putin e contro il suo paese. Se vuoi continuare a lavorare, tra l'altro parliamo di un direttore d'orchestra di fama internazionale, un patrimonio, tu se vuoi continuare a lavorare devi dichiarare di essere contro Putin, devi dichiarare di essere contro il tuo paese, altrimenti non puoi continuare a lavorare. E invece poi c'è qualcuno che si scandalizza perché Amnesty diserta il Luca Comics, perché c'è il patrocinio non di un israeliano, ma dell'ambasciata israeliana che rappresenta il governo Netanyahu. Lì ci si scandalizza. Invece quando si chiedeva a un direttore d'orchestra russo tu se vuoi continuare a lavorare devi fare una dichiarazione politica, questo era assolutamente normale, lo si descriveva come un oligarca vicinissimo a Putin, si andava a salvare quello che viene il suo patrimonio. Oppure ancora prima, se tu vuoi venire in televisione, vuoi parlare di certe cose, devi dichiarare di essere vaccinato, devi dichiarare di condividere la linea. Devi premettere, devi premettere, siamo una nazionale della premessa, premesso che poi segue la cosa, ma io sinceramente per esempio su Luca io non avrei avuto problemi per il patrocinio dell'ambasciata israeliana, sarei andato, avrei detto le mie cose, capisco anche la posizione differente di altri che facciano quello che vogliono, io penso che sia così, ci mettono un patrocino, va bene, ma io me ne frego dei patrocini, vado dovunque vada e dico quello che penso io, se vado da una cosa che è patrocinata da un'altra nazione non mi interessa, io dico quello che penso se vengo invitato. Dopodiché però per lo stesso motivo mi aspetto che sia possibile a chiunque dire ciò che pensa in qualunque luogo, almeno in Italia, finché vige la democrazia uno deve poter dire ciò che pensa ovunque, deve poter professare le sue posizioni politiche, deve poter dire quello che gli pare.